Amici di Calciomercato.com, bentornati. Angelo Taglieri, Alessandro Di Gioia, con il consueto appuntamento con il Fantacalciomercato, il gioco che ogni mercato, quindi in inverno e in estate, torna con prepotenza. Settimana scorsa la schedina? 1-0 per te. 1-0 per me, ho indovinato un solo acquisto, che è quello di Gabigol, che è andato al Flamengo in prestito, però comunque l'ufficialità è arrivata. Il giocatore è andato via, quindi sono punti portati a casa in cascina. 1-0 per Angelo, ma proverò chiaramente a sfidarlo per riprenderlo subito questa settimana, anche perché sono pochi gli appuntamenti, no? Quattro appuntamenti. Eh sì, e meno male che l'hanno allungato il mercato, se no era già finito. Se no era praticamente già finito il Fantacalciomercato e ci risfidiamo. La schedina io, una schedinale, inizia come sempre. Parto io, ricordiamo le regole, dieci giocatori con le destinazioni che voi credete possano essere garantite appunto per questi uomini e ogni giocatore ha una quota che se viene colta porta dei punti e poi chiaramente la sfida tra le due schedine in questo caso, ma in generale poi si va a punteggio. E chi totalizza più punti vince, chiaramente giocate prima degli vostri avversari, perché in caso di parità di punti, se avete giocato prima vincete voi. Non come noi che giochiamo il venerdì. Esatto, non come noi che giochiamo il venerdì, però io ho utilito una tattica diversa, visto che mi hai battuto l'ultima volta, avevo provato a fare il passo più lungo della gamma e questa volta gioco invece colpi, così magari vinco. Parto con Allane, che in realtà è quello più alto da questo punto di vista. Il trasferimento dal Napoli per i St. Germain è molto complicato, ma io chiaramente lo metto dentro perché ho una mia teoria per la quale secondo me il Napoli dovrà fare un sacrificio importante sul mercato anche per impiazzare alcuni uomini che a giugno saranno per forza di cose, per una questione anche anagrafica al passo d'addio. Parlo chiaramente di Merzica, io nello stesso era un albiole, quindi un sacrificio dovrà essere fatto e penso che Allane possa essere quest'uomo. Passo poi invece a una sorta di, come si può dire, intreccio tra punte, chiaramente hai capito di cosa sto parlando perché hai i nomi di Pio. La Padula. Esatto, la Padula. Per la Padula preparatevi un pezzo di Angelo Taglieri come sempre sensazionale. Come sempre quando va via un 9 del Milan. Quindi Piontek, Higuain, Cialanogolo e Carrasco e Baciuai. Sono tutti nomi legati tra di loro perché, inutile stare a ribadirlo, però lo facciamo. Higuain è veramente a un passo da diventare un nuovo giocatore del Chelsea, dovrebbe trasferirsi in prestito oneroso nel club inglese che poi lo dovrebbe riscattare, chiaramente la formula è sempre quella del diritto, la Juve avrebbe dato l'ok, in queste ore si proverà a sviluppare il tutto. Il Milan, questo affare è dato a due per far capire come oramai veramente siamo ai dettagli. Il Milan dovrà sostituirlo, io punto su Piontek come sostituto che è dato a tre, un passaggio da rosso-blu al Milan, che dovrà investire per questo giocatore una cifra importante, ma chiaramente non può fare altro, visto che comunque un numero 9 serve. Secondo me il Milan non si fermerà a Piontek, ma prenderà anche Baciuai, il cui passaggio rosso-nero è dato a 10, quindi due giocatori per sostituire un top player come Higuain, che potrebbero essere uno magari più avvezzo al calcio europeo, come appunto il belga, invece uno come il polacco che ha appunto fatto un exploit in questa prima parte di stagione, ma forse non offre ancora dovute garanzie per essere l'unico titolare rosso-nero. Perché sono legati anche Baciuai e Celanoglu? Perché potrebbe esserci un via vai, nel senso un Celanoglu che va all'Ipsia, in questo caso è dato a 5 questo colpo, portando un tesoretto che poi può consentire al Milan di andare a investire su un altro belga che è appunto Carrasco, che potrebbe arrivare dal campionato cinese, anche se in questo caso l'affare è dato a 10, perché sappiamo che lui guadagna 11 milioni di euro all'anno e soprattutto il club cinese non lo vuole far partire via in prestito, non lo vuole far andare via in prestito, quindi una sorta di intreccio importante, però secondo me può avere luogo tutto ciò e per questo appunto ho giocato questi colpi. Tra l'altro è curioso le due punte del Milan, perché ricordiamolo in principio il mercato del Milan, prima che scoppiasse il caso di Higuain, era proprio la ricerca di un attaccante, tanto che sembrava fatto l'arrivo di Muriel o Ibrahimovic prima. Assolutamente, poi anche il fatto che potrebbero veramente finire due giocatori del Belgio in rosso-nero, in questo girotondo di affari. Esco un po' dall'orbita Milan, parlo invece di Kovnacic, sembrava fatta per il Fortuna Dusseldorf, invece Lempoli ci sta provando seriamente, vorrebbe inserire anche Zaic nella trattativa, io in questo caso avevo giocato Fortuna Dusseldorf, ma lo vedo più inserito nel calcio italiano, anche contro il Milan è entrato bene, ha rischiato di far gol, secondo me è un giocatore che può rimanere nella nostra Serie A e quindi mi gioco il passaggio in Toscana dato a 5. Concludo con tre colpi che in realtà non sono tre colpi ma sono tre permanenze, almeno per quanto concerne gennaio. Diego Godina all'Atletico Madrid, si parla molto di Inter per giugno, l'Atletico sta provando a trattenerlo anche per le prossime stagioni, però sicuramente secondo me a gennaio rimarrà Nicol Cionieros dato appunto a 5 questa permanenza del capitano nell'Atletico. Stesso discorso per Pedro Bianche, sembrava fatta con la Fiorentina, invece West Ham per opera del presidente Sallev hanno deciso di trattenerlo, quindi non credo che andrà lì anche per i problemi economici del club francese, credo che rimarrà appunto negli Emers, una permanenza data anche questa a 5. Chiudo con la terza permanenza a 5, Aaron Ramsey, giocatore che andrà alla Juve a giugno perché scadenza di contratto ma che l'Arsenal vuole trattenere in Inghilterra a gennaio perché punta molto su di lui sia per l'Europa League che per raggiungere la Champions e quindi non credo appunto lo cederà in questo mercato invernale nonostante l'insistenza della Juve sia importante ma rimarrà Gunner fino appunto all'estate. 65 punti per sfidare Taglieri che vince sempre. Io invece un po' di più perché dato che ho vinto l'ultima volta quindi ci sta a rischiare un po', Alvaro Morata melogioco dal Chelsea all'Atletico Madrid dato a 5 praticamente fatto, il giocatore pronto a tornare a Madrid, dall'altro l'Atletico lui ci è cresciuto prima di andare al Real Madrid quindi torna a casa, un giocatore che ha spinto molto per la cessione dal Chelsea, voleva tornare anche in Italia però, l'hanno spuntata il colcio nero, poi Mario Balotelli altro attaccante dal Nizza al Marsiglia, secondo me alla fine resterà il Ligano, niente di Genova, anche Perinetti l'ho escluso in questi ultimi giorni e secondo me il trasferimento questa volta si farà dopo che è saltato in estate dato a 3. Poi Denis Suarez, l'altra volta avevo dato Banega più vicino all'Arsenal perché volevo alzare un po' la posta in palio, questa volta invece sto basso e il centrocampista il Barcelona può finire a Siviglia piace e può finire all'Arsenal, piace a Emery il giocatore può dare quella qualità che manca un po' al centrocampo dell'Arsenal e poi in ottica può andare a sostituire Aaron Ramsey comunque nel stesso ruolo in ottica futura, sì e quindi mi gioco con questo trasferimento che è dato a 5 poi Leonardo Spinazzola dalla Juventus al Bologna, il giocatore che si è ritrovato lo ha dimostrato anche in Coppa Italia, piace molto alla squadra di Filippo Inzaghi il trasferimento è dato a 5, sta spingendo per andare a giocare in prestito con maggiore continuità e infatti la Juventus sta pensando anche a Emerson Palmieri. Poi altro centrocampista, Rog, che dal Napoli può andare a Siviglia, Caparossi è direttore sportivo degli Andalusetto che è difficile ma stanno trattando alla fine che penso che in prestito possa andare a vestire la maglia del club andaluso, trasferimento dato a 5. Poi Nathan Nandez, si è un po' renata la trattativa o meglio se ne parla meno rispetto qualche settimana fa, però credo che alla fine possa arrivare al Cagliari, al Boca un po' il ciclo è finito con l'addio di Barros Chelotto che è andato in MLS, Nathan Nandez ha voglia di misurarsi con l'Europa anche perché dietro potrebbe essere cilindra, questo trasferimento al Cagliari, trasferimento che ha dato a 5 quindi ci sono speranze per i tifosi saldi. Sì perché lo vuoi al Fantacalcio, lo voglio sicuramente al Fantacalcio, lui è Pachetà voglio al Fantacalcio, in attacco invece bisogna aspettare perché avevo i guai, avevo i guai in. Poi Darmian Matteo e questa mi alza di tanto perché è dato a 20, il suo trasferimento dal Manchester United alla Lazio, ma perché l'ho giocato? Perché voglio provare ad anticipare un po', Zappacosta si fa un po' più difficile perché il Cessi chiede 18 milioni di euro troppi in questo momento per la Lazio che non vuole spendere così tanto, Darmian costa di meno, al contratto in scadenza, quindi potrebbe andare via a una cifra più bassa, sappiamo che l'ho detto sempre attento, ai conti e quindi è dato a 20 questo trasferimento che mi gioco. Poi Mesuto Zil che stamattina è stato accostato nuovamente all'Inter, lo vedo in un campionato cinese perché vedo un giocatore che ha sempre pensato spesso all'ingaggio, 15 milioni di sterline più o meno all'ingaggio del calciatore tedesco e credo che siccome non voglio rinunciare neanche a un penny, possa andare davvero nel campionato cinese dove potrebbero ricoprirlo d'oro con diversi club già interessati, trasferimento dato a 15, poi anche Jokov Nacchi che dalla Samp all'Empoli può fare molto bene in prestito, tra l'altro la Samp lo vedrebbe impegnato in un campionato italiano da protagonista e quindi sarebbe contenta anche la società blu cerchiata. Infine chiudo con un po' un colpo a sorpresa, Coric, il centrocampista della Roma che piace a diversi club sia in serie B che in serie A e lo gioco a Sassuolo perché tra Roma e Sassuolo c'è sempre stato una partnership particolare con i giovani, quindi questa più che trattativa vera e propria è una suggestione tutta mia, però il buon Cristian Giudice ha inserito il Sassuolo nell'istone del fantacalcio mercato, quindi io lo gioco che ha dato a 10, massimo punteggio a 78, quindi un po' più difficile ma ci proviamo. Quindi un taglieri che gioca alto e che prova addirittura a intavolare e a fare lui delle trattative. Faccio io il mercato. Cosa c'ha di meglio? C'ha di meglio Cristian Giudici perché se avete dei dubbi nei commenti o su Twitter potete sicuramente iscrivere a Cristian Giudici o in alternativa al buon Andrea Di Staso che è sempre presente per il fantacalcio mercato. Detto questo ci vediamo la prossima settimana quando ci si entrerà ancora di più nel vivo per il calcio mercato e il fantacalcio mercato. Sì, forse, come sempre. Confident per forse. Ciao a tutti. Ciao a tutti.